Le sfide che attendono il Molise sono decisive per il futuro della piccola regione, l'unica della penisola a non essere attraversata da un collegamento autostradale e con un deficit infrastrutturale che sconta 50 anni di totale immobilismo. E ora che le risorse ci sono, meglio dire ci sarebbero, non si sa mai, il Molise deve farsi valere sui tavoli che contano. Mi presenterò all'incontro sul Recovery Fund, ha dichiarato venerdì a Teleregione il presidente Donato Toma, ma per ottenere un risultato importante e le risorse necessarie per realizzare quella quattro corsie che i molisani attendono da decenni e magari qualche altra opera strategica, Toma ha necessità di pressare il governo e di essere fisicamente presente nella capitale. Carpe diem, direbbero i latini, ora o mai più, aggiungiamo noi, ma per centrare l'obiettivo, il presidente della regione ha bisogno di più tempo e di meno cose di cui occuparsi. Per questo chiede aiuto alla maggioranza e annuncia una rivisitazione e contestuale implementazione delle deleghe ad assessori e consiglieri semplici. Io sono molto proiettato sulle opere strategiche per il Molise, quindi in campo nazionale ed europeo. Quindi ho la necessità di aggiustare un po' le deleghe sugli assessori e sui consiglieri per far sì che mi diano una mano ancora maggiore di quella che mi danno e quindi sto riflettendo su come dare una collocazione ad alcune deleghe più sistematica. Non è quasi mai sufficiente a coprire l'intera regione.